E passiamo a una notizia di attualità, l'intellettuale viver agrigentino Alessio Q. Pardo, noto e più come il grande Ghesby di Montserrato, dopo anni di celibato è giunto al grande passo e ha annunciato il definitivo ritiro dalle scene. Numerose proteste dalle associazioni femministe, con in testa la vocalist Lady Elena, che parlano di egoismo raccapricciante nelle concedersi ad una sola donna. Felicitazioni da Confindustria e da Luca Cordero di Montezemolo, che afferma «Fatto il matrimonio, tanti saluti al patrimonio». A tal proposito l'Apo Elcan e i calciatori Balotelli e Adriano hanno annunciato l'acquisto di una multiproprietà sull'isola d'Elba, perché pare da adesso possa esserci fermento dalle parti di Portoferraio. E le stati potrebbero farsi più interessanti. Alessio Q. Pardo si unirà in matrimonio con Ludovica Brambilla di Cimesio, la quale, viste le premesse, si sta già preparando per tenere a bada il futuro consorte. Per festeggiare l'Unione, Carrefour Italia ha annunciato che i propri supermercati offriranno promozioni speciali su Acqua Perriere, Don Perignon, Astici, Fuas e altri beni di lusso. Date le Acras i migliori auguri ai novelli sposi.